e allora ragazzi se c'è un vincolo che in sostanza accomuna tutti i lavasciuga non era batteria probabilmente neanche il rullo della spazzola motorizzata ma è un altro i contenitori dell'acqua perché perché la stragrande maggioranza di questi prodotti soffre del fatto di avere ok una batteria che gli garantisce una buona autonomia ma poi di avere dei contenitori dell'acqua dei liquidi dell'acqua pulita dell'acqua sporca troppo piccoli cosa vuol dire che mentre state pulendo casa a un certo punto anche se la batteria è ancora carica dovrete fermarvi genre ed i 12 è un prodotto che risolve proprio questo particolare problema questo particolare vincolo e lo fa ad un prezzo super conveniente 186 euro circa con il link che trovate in basso e il coupon da applicare su amazon vediamo come va la prima cosa che si nota una volta assemblata la genre ed i 12 e la sua leggerezza con un peso di circa 3,6 kg una struttura piuttosto compatta e tra le lavasciuga più maneggevoli del mercato e lo è nonostante arrivi con dei contenitori dell'acqua più capienti posizionati tutti sull'asse verticale quello dell'acqua pulita è da ben 850 millilitri mentre quello dell'acqua sporca è da 450 millilitri ora per darvi un metro di paragone sulla stessa fascia di prezzo anche se effettivamente costa un pochino di più c'è la Tineco iFloor la Tineco iFloor che ha un contenitore dell'acqua da 600 millilitri quindi capirete quanto è molto più grande quello di questo modello e poi vedremo come nella pulizia questa capienza maggiore aiuterà proprio nel migliorare l'esperienza utente insomma spazi meglio gestiti hanno portato ad una maggiore capienza ed hanno quantomeno arginato il problema della necessità di dover svuotare e ricaricare l'acqua più volte nel corso di una pulizia poi data la sua natura economica Joner e D12 non integra un display vero e proprio ma sulla parte frontale poco sopra il contenitore dell'acqua sporca è stato integrato un semplice indicatore dell'autonomia residua della batteria sia chiaro stiamo parlando comunque di un prodotto che costa meno di 190 euro e quindi ok il fatto di rinunciare al display ci sta però secondo me la cosa è anche un'altra data proprio la conformazione della lavasciuga il fatto che il contenitore dell'acqua pulita sia posizionato nella zona superiore questo comunque avrebbe reso impossibile posizionare lì un display l'unico posto era quello frontale e a quel punto in quella posizione un display in cui si vedono informazioni relative al lavaggio, alla batteria eccetera non avrebbe avuto senso perché in fase di pulizia è difficile da vedere quindi per me va bene così molto più tradizionali tasti di controllo che sono stati posizionati sul manico e che servono non solo ad accendere e spegnere il dispositivo ma anche a cambiare la potenza d'aspirazione e attivare la modalità di autopulizia di cui parleremo a breve anche la spazzola non è niente male per una lavasciuga che costa meno di 200 euro il rullo è stato progettato in modo da minimizzare lo spessore lungo il bordo destro e sì anche se non è un'idea nuovissima è molto importante per riuscire a pulire senza problemi anche lungo i bordi dei battiscopi, lungo i mobili, lungo i divani insomma lo spessore direi che va più che bene per questa categoria di prodotto inoltre la spazzola motorizzata è coadivata da un sistema di 40 ugelli quindi ci sono 40 piccoli fori che distribuiscono l'acqua sul rullo della spazzola motorizzata e questa è una cosa buona perché prima di tutto dovete considerare che in media gli ugelli sono circa 16 sono sempre meno di 20, qua ci sono 40 quindi più del doppio e questa ha diverse cose positive per esempio punto primo la spazzola si inumidisce tutto uniformemente quindi quando si va a pulire non si creano quegli aloni a terra dovuti al fatto che la spazzola non è bagnata ugualmente in tutti i punti secondo si asciuga molto più facilmente l'acqua sul pavimento terzo il processo di autopulizia è molto più veloce per il resto tutte le componenti sono facilmente estraibili e lavabili sia a mano che tramite il processo automatizzato insomma dopo vi farò vedere la spazzola si può estrarre con facilità tramite un meccanismo di sblocco laterale ad animare il genre D12 ci pensa un motore da 6000 PA che viene gestito con le tipiche modalità delle lavasciughe è un dispositivo progettato per aspirare acqua e residui solidi quindi lavare le superfici e non può essere utilizzato a secco l'aspirapolvere si accende inclinandolo e premendo il tasto di accensione ovviamente e può essere utilizzato in due modalità quella auto e quella max il mio consiglio è sempre di utilizzare la prima modalità anche perché effettivamente è una modalità piuttosto funzionale è chiaro che poi quando dovrete andare a pulire le macchie un po' più persistenti andate sulla modalità max questa modalità ovviamente più potente distribuisce più acqua ma consuma anche più batteria ma indipendentemente dalla modalità la qualità della pulizia del lavaggio è ben sopra la media della fascia di prezzo tutto lo sporco viene aspirato senza alcun problema e grazie all'alta velocità di rotazione del rullo anche le macchie più ostinate sul pavimento verranno eliminate ed il fatto che poi ci sono 40 ugelli che detergono in maniera uniforme il rullo velocizza proprio tutto il processo di pulizia della superficie certo va detto che come in qualsiasi lava asciuga se ci sono delle macchie più ostinate sarà magari necessario passarci due o tre volte sopra per farle togliere però devo dire che sono molto soddisfatto della pulizia di questo aspirapolvere lavapavimenti perché ho notato che anche la spazzola ha un maggiore grip sul pavimento il che rende più semplice poi pulirlo e considerata la qualità della pulizia ovviamente paragonata al prezzo di vendita 186 euro circa con il link al coupon che trovate giù credo che su questa fascia di prezzo questa qualità di pulizia difficilmente la potrete trovare in altri prodotti e poi una volta terminata la pulizia anche questo modello ha l'autopulizia cosa vuol dire? Si posiziona sulla base di ricarica, si preme il tastino e il sistema andrà a pulire con l'acqua sia il rullo che tutto il circuito di aspirazione è un processo piuttosto veloce proprio per la presenza di questi 40 ugelli ed è molto funzionale effettivamente io ho aspirato come avete visto della salsa rosa se ricordo bene il rullo comunque non ha subito alcun danno in genere quando si puliscono queste salse comincia a punzare un poco invece no, questi 40 ugelli lo hanno pulito molto bene l'importante però è che al termine della pulizia svuotiate e sciacqueate il contenitore dell'acqua sporca perché sennò altrimenti ragazzi puzza per quanto riguarda invece l'autonomia della batteria siamo nella media, nella modalità meno potente ecco diciamo così sono riuscito ad arrivare a poco più di 30 minuti di autonomia mentre quando si utilizza la modalità max si arriva a poco meno di 15 minuti capirete quindi che è questo il motivo per il quale vi ho consigliato di utilizzare sempre la prima modalità in modo tale da nel caso utilizzare la max solo quando ci sono macchie più persistenti ma l'80% delle macchie vanno via anche con quella più bassa la ricarica un po' lentina insomma siamo intorno alle 3-4 ore per una ricarica completa il prezzo della Johnner è di 12 e di 249,99 euro su Amazon ma in basso trovate un link accanto al quale è stato inserito anche un coupon per acquistarla a 187,49 euro quindi non 186 dovete fare due cose punto primo attivare il coupon nella pagina del prodotto e poi nel carrello applicare il coupon che trovate proprio accanto al link e a questa cifra sono poche le alternative funzionali che potreste acquistare in questo settore nel mondo dei lavasciuga ora è chiaro non è un prodotto perfetto è chiaro che è un prodotto come dire nel quale il brand ha comunque dovuto scendere a qualche compromesso per tenere basso il prezzo ma è super maneggevole è anche compatto effettivamente ed anche la base di ricarica è piuttosto compatta e come rapporto qualità prezzo penso che siamo veramente al top tra l'altro 187 euro eccetera eccetera è il suo minimo storico quindi se la volete acquistare insomma non perdete tempo e questo è quanto questa è la Johnner E-D12 fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se vi va iscrivetevi al canale attivate la campanella io sono Dario Caliendo e ci vediamo al prossimo video su Giz Ciao